partito ok ciao a tutti ragazzi io sono Antarna Verde e lui è Superman e adesso vi presenteranno i Michi C2 ciao a tutti ragazzi lui è Ignazio e lei è Alessia e insieme siamo i Michi C2 avviciniamoci di più Ale e oggi vi faremo vedere il tour della casa con i nostri personaggi Superman e Antarna Verde e loro vi faranno vedere la casa sì la casa di Ignazio è molto bella infatti inizia il video chi tiene la telecamera? io ah ok prendi allora seguimi Superman e adesso chi tiene Superman? ok iniziamo dalla stancetta ecco qui questo è questo è il computer o Ignazio gioca sempre a MotoGP sempre a MotoGP ma ne sono giocare a più e poi andiamo avanti in cucina questa è la cucina guardate qua c'è un divanetto oh molto morbido proprio morbido là c'è il tavolo vabbè la tv andiamo avanti una piantina andiamo ma possiamo andare in camera da letto ok andiamo avanti in camera da letto oh non riesco ad aprire ecco questa è la camera da letto ah io mi tuffo no 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 ok questa è la camera da letto ti tuffi nel letto della stanzetta ok questa è la camera da letto scusa Alessia vuoi tornare in stanzetta per fare qualcosa? ma non dobbiamo fare il bagno il bagno vabbè ma prima la vai in stanzetta oh letto dolce letto aspetta aspetta ah non posso no non posso ah letto dolce vabbè no vuoi tu farmi di più porta va bene eh a te non battere la testa seguiamo ah no qua lì oh oh Alessia c'è qualcuno alla porta vieni in bagno vieni vieni ma non ci preoccupare aspetta non ci preoccupare non lo faccio più eppure è cancellato che ho detto così eh che ho detto che quello sta venire che si deve registrare cancellare ma mamma ma stiamo facendo qualcosa è una cosa tra cioè ok non stiamo facendo niente ma che sta a fare ok vai andiamo va bene e questo è il bagno signore e signori qua ci sono l'identificio e lo spazzolino che ho insegnato quello del Milan e di Ignazio quello dei Minions e di Alessia sapone davanti andiamo avanti con la che profumi e poi abbiamo questo scivolo ragazzi si guardate ce ti truffiamo ciao papi avete visto è una scivola per trasportare la cinesta in seta è un teletrasporto dai vediamo il bagno ciao papi andiamo a salutare signor Michele ciao papi carissimo ciao signore Michele salve salve puoi salutare puoi salutare per favore ok andiamo e si che bello che bello qua c'è il bidet con il sapone il cestino delle robe e guarda e no così si tuffa qua invece c'è il sapone dei miei e come butta banana qui c'è il sapone del capisano americano hai andiamo avanti spegniamo la luce ah sta già spinta ok adesso andiamo in questa azienda e ci dobbiamo salutare dai vieni nello scivolo nello scivolo si wow 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 accidenti io sono andato con la capriola già e il video si finisce qui ciao